Musica Oggi presentiamo il progetto Palestra Cielo Aperto che è una delle eredità che lasceremo dopo Torino 2015 ed è un progetto che prevede che i nostri parchi, Parco Ruffini, Valentino e Piazza Darmi e poi estenderemo ad altri parchi, si trasformino in grandi palestre a cielo aperto non solo dicendo che ci sono degli attrezzi e che quindi quello rappresenta una palestra a cielo aperto ma mettendo dei servizi gratuiti per i cittadini che in collaborazione con l'esercito che ci fornirà gli istruttori l'ARPA che ci fornirà dei meteo e dei bollettini personalizzati per i runner nei nostri parchi e l'Istituto di Medicina dello Sport che grazie al quale ci potranno essere i medici di medicina sportiva che faranno un check up completo dei nostri corridori dal punto di vista per esempio respiratorio, della pressione, dello stato generale di salute e questo permetterà di dare un grande servizio ai cittadini che quindi troveranno nell'amministrazione un promotore dello sport all'aria aperta e non solo diciamo a parole, quindi loro potranno gratuitamente venire nei nostri parchi e sentirsi accompagnati nell'attività fisica che rappresenta oggi un aspetto molto importante della vita di tutti i cittadini. Grazie a tutti i nostri spettatori